Confrontiamo due siti funerati diversi per cronologia, per area geografica, che però diciamo che sono espressione di un evento catastrofico dello stesso tipo, caratterizzato da una mortalità elevata ma non simultanea. Uno dei due è il polcrale che è emersa durante gli scavi dell'area di Levante degli Uffizi a Firenze, che ha portato in luce 75 scheletri in uno spazio molto limitato, nei ritagli risparmiati da tutti gli interventi e strutture urbane successive. Ecco, quindi una concentrazione tale da far avere un serio problema di mancanza di spazio, anche se è una porzione, una frazione di una, presumibilmente ben più vasta, che si estendeva lungo una fascia di terra lungo la riva dell'Arno e quindi teoricamente uno spazio libero abbastanza ampio. Questo problema di mancanza di spazio, quindi lo si deduce dalla tipologia delle sepolture, da questa grande concentrazione. Intanto quindi si è pensato che si trattasse di una moria che si è verificata in un lasso di tempo abbastanza ristretto e quindi le indagini che stiamo conducendo appunto mirano a cercare di mettere in luce la, portare, comprendere la causa di questa moria. Allora, dunque il campione è detto da uomini e donne di età e anche molti bambini. Abbiamo escluso al momento che si tratti di un eccidio, se la cosa è plausibile perché questa necropoli è datata dal IV al V secolo d.C., quindi in un'epoca di turbolenza e invasioni barbariche, quindi sarebbe plausibile. Ma abbiamo escluso questa ipotesi perché non si tratta di una morte contemporanea di tutto il gruppo, perché in questo caso ci troveremmo di fronte a magari una o alcune grandi fosse comuni con cadaveri sovrapposti come è naturale nel caso di una morte contemporanea. Quella sarebbe la soluzione più razionale. Abbiamo anche escluso la possibilità di un alluvione perché è difficilmente spiegabile che il seppellimento sia avvenuto sulla sponda del fiume, quindi che doveva essere ancora fangosa, allagata. Però è la tipologia delle sepolture, soprattutto, che ci aiuta a comprendere la situazione. Perché appunto non un'unica grande comune, ma tante fosse molto ravvicinate tra di loro, ne abbiamo contate 17, e di dimensioni da contenere da 4 a 11 cadaveri ciascuna, quindi non molto grandi. e all'interno di ognuna i defunti erano però stati deposti pressoché contemporaneamente, come dimostrava l'assenza di terra interposta tra l'uno e l'altro, sono proprio a stretto contatto tra di loro. E poi, ecco, vedete che erano stati stipati uno accanto all'altro, e addirittura posti di taglio, di fianco. Anche se poi, per il successivo assestamento post-mortale, si sono, per così dire, supinati, fino a dare l'impressione appunto di essere supini e parzialmente sovrapposti. Però, guardando attentamente le varie parti scheletriche, riesce a capire che erano stati proprio affiancati per risparmiare spazio. E i bambini erano incastrati negli spazi liberi tra gli adulti. E poi, sempre per risparmiare spazio, come vedete, sono stati posti orientati in maniera alternata, testa-piazza-piazza. Ecco, questa è anche la visione dall'alto, per far vedere la concentrazione elevata. Ecco, si osservano vari segni di sepoltura frettura, perché sono stati trascurati, per esempio, la posizione rituale, l'accomodamento rituale dei catturati. Questo è un caso in cui è stato rispettato questa posizione rituale che all'epoca, come abbiamo visto da altri contesti, eccetera, era così, con le mani incrociate sull'addome. Però questo è un caso piuttosto raro. Il più delle volte si vede che ci sono questi segni di casualità della deposizione, posizioni abbastanza varie, diversificate. Qui, per esempio, vediamo che c'è la mano che si trova sotto al bacino. Questo significa che durante la deposizione il braccio è sceso prima ed è rimasto quindi dietro la schiena. Ecco, qui vediamo che ci sono vari indizi che intanto la sepoltura è avvenuta in spazio per cui non c'è dubbio, quindi nella nuda terra e probabilmente i defunti erano avvolti in un lenzuolo oppure con i vesti ma sempre senza una bara. E i corpi venivano, se non proprio buttati giù, calati in maniera abbastanza frettolosa e schierati l'uno accanto all'altro a partire da un lato della fossa verso l'altro e se guardiamo attentamente gli aspetti tafonomici riusciamo a capire il verso di questa successione. e qui vediamo che questo sedimento, questa terra fine di natura limosa, sabbiosa si è modellata intorno alle ossa via via che si decomponevano i tessuti molli e ha lasciato i cadaveri le ossa agli scheletri in perfetta connessione anatomica stretta cosicché quello che noi vediamo è quasi esattamente la posizione dei cadaveri salvo dei piccoli assestamenti dovuti alla pressione del terreno. Ecco allora la razio doveva essere quella di gestire riuscire contemporaneamente un certo numero consistente di morti ogni giorno e quindi queste fosse erano molto ravvicinate tra di loro perché non si sapeva non era prevedibile quanto sarebbe durata questa emergenza per cui si tendeva a risparmiare spazio nonostante appunto che si avesse a disposizione tutta la riva del fiume e risparmiare spazio queste fosse non erano molto profonde erano di dimensioni piccole sufficienti a contenere i cadaveri di quel momento in modo da poterle poi subito ricoprire di terra una volta riempite ed evitare così il pericolo di contagio senza lasciare all'aria i defunti e poi è stata appunto questa zona intorno al fiume perché qui il leno era forse scavabile essendo un sedimento sabbioso ecco l'altro devo dire che siccome tutti questi quanto ho ancora va bene allora vado avanti velocemente abbiamo pensato quindi a un'epidemia e le indagini che stiamo conducendo di natura paleobatteriologica tendono appunto identificare l'agente patogeno l'altro sito è invece il cimitero all'interno dell'abbazia di Abbadia San Salvatore al Monte Amiata questo ecco questa è l'area cimiteriale una fase di questo cimitero che ha avuto un lungo periodo d'uso una fase basso medievale a circa metà del quattordicesimo secolo dopo Cristo è rappresentata da lunghe trincee parallele da queste lunghe trincee parallele dove vedete i defunti erano deposti parzialmente sovrapposti tra di loro embricati per così dire con appunto la testa dell'uno tra gli arti inferiori dell'altro e poi c'erano anche delle fosse che tagliavano fosse singole che tagliavano a un livello leggermente superiore ma questa è una fase successiva un'altra storia all'interno delle fosse appunto questa è la situazione c'erano poche eccezioni a questa condizione di embricatura per esempio un individuo qui che è stato deposto con orientamento opposto mentre tutti gli altri erano orientati nello stesso verso ecco e poi intorno c'erano anche delle tracce di combustione che sono state interpretate a una possibilità come dei focolari funzionali alla sepoltura cioè probabilmente serviva illuminare un'operazione che in questo modo poteva essere condotta anche di notte ecco poi in questo caso la nostra ipotesi che si trattasse di un'epidemia è stata convalidata da questi paleobatteriologici campione perché diversi scheletri che si trovavano nelle trincee hanno dato risultati positivi è stato identificato il batterio della peste che per l'appunto è il responsabile della peste nera che si è abbattuta sulle popolazioni dell'epoca su molte popolazioni dell'epoca ecco e poi insomma poiché Abbadia San Salvatore si trova non distante dalla via francigena il ritrovamento poi si è inserito nel dibattito storico sulla diffusione della peste le vie di trasmissione del pellegrinaggio però non invocare questa causa questa relazione perché in realtà la via francigena è anche una via commerciale tra Siena e l'Amiata e molti prodotti amiatini venivano commercializzati a Siena ecco basta grazie a tutti Grazie.